Ciao, ben arrivata la scuola della BFU delle Gemini a Pomponarigio, come stai? Andiamo a tolare? Pomponiamo la BFU delle Gemini al Chiaro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanta roba, tanta roba. Ti sei divertito? Il ragazzo è stato fantastico, super paracadutista, può fare pure il corso. Grande, saluta, ciao!